Ciao e benvenuti alle buone ricette di Pam e Panorama Io mi chiamo Anna Maria e oggi vi insegnerò a cucinare l'orata in crosta di meringa salata Realizzeremo questa ricetta ad un costo contenuto Per la realizzazione di questa ricetta sono necessari 20 minuti per la preparazione e 30 minuti per la cottura Gli ingredienti indicati sono sufficienti per 4 persone E il livello di difficoltà è minimo Ecco i prodotti per la ricetta di oggi Orata fresca levata in Italia Pam Panorama Sale iodato fino Uova extra fresche da allevamento a terra Scalogno Chiodo di garofano E alloro Ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi Due orate Due scalogni Due foglie di alloro Due chiodi di garofano Un chilo e mezzo di sale fino Sei uova La ricetta di oggi l'orata in crosta di meringa racconta di una tecnica di cottura La cottura in crosta appunto che può essere commestibile come per esempio quando avvolgiamo del salmone con della sfoglia O come in questo caso non commestibile se utilizziamo il sale o per esempio l'argilla Per cui prendiamo in questo caso due orate ma se avete dei branzini è una valida soluzione E fateli pulire dal vostro pesci vendolo e viscerandoli mantenendo però le squame Quelle servono per dare maggiore protezione alla carne appunto del pesce quando si andrà in cottura E andiamo ad inserire all'interno di ognuna delle nostre orate un piccolo bouquet garni In realtà un mazzetto aromatico steccato Per cui prendiamo lo scalogno, prendiamo la foglia di alloro e andremo a steccare Cioè chiudere in realtà con un chiodo di garofano E andiamo ad inserire questo mazzetto aromatico all'interno delle nostre orate Come vi dicevo il nostro pesci vendolo ha provveduto ad eviscerarle Noi comunque a casa andremo a lavarle, a sciacquarle sotto l'acqua fredda E poi a tamponarle con della carta assorbente, con della carta casa E ora procediamo con la preparazione della meringa La meringa di sale che ci servirà poi per completare la cottura E nel frattempo abbiamo già acceso il forno statico a 160 gradi Per cui all'interno di questa ciotola inseriamo gli albumi Sempre meglio che siano freddi E li montiamo lentamente Aggiungendo un po' alla volta Un chilo e mezzo, l'abbiamo già pesato naturalmente, di sale fino A metà circa dell'aggiunta del sale Andiamo a recuperare il sale che naturalmente verrà sparato verso le pareti della ciotola Lo andiamo ad inserire, come sto facendo io, con una spatola E poi continuiamo fino al termine del sale Ora prendiamo un sac à poche o un sacco da pasticcere Una volta erano in tessuto, poi l'hanno fatto in silicone Adesso, in maniera molto più igienica, sono venduti comunemente in tutti i negozi In rotoli, usa e getta, come potete vedere in questo momento Per cui inseriamo il sac à poche Lo apriamo, in questo modo E lo inseriamo all'interno di un contenitore cilindrico come questo Potrebbe essere anche un bollitore del latte, per esempio E questo semplicemente ci consente di avere un supporto che lo sorregge E noi due mani libere per lavorare Quindi andiamo ad inserire all'interno del sac à poche questa meringa Così da distribuirla in maniera più omogenea Recuperiamo tutto il sac à poche Lo liberiamo dall'abbraccio del contenitore Facciamo scendere il composto E voilà, abbiamo il nostro sacchettino pronto E ci posizioniamo per continuare la ricetta Quindi Una teglia che contenga agevolmente il pesce Orato Branzino, come si diceva E la nostra meringa Quindi andiamo a tagliare la punta Come abbiamo detto prima, il forno l'abbiamo già acceso 160 gradi statico E ora cuciniamo per 30 minuti Sono passati i 30 minuti E la nostra orata in crosta è perfetta e cotta Come potete vedere la superficie si è indurita Attenderemo qualche minuto E poi la romperemo con un colpo secco Utilizzando appunto un coltello Uno strumento di cucina E lo porteremo in tavola In modo tale che ci sia anche un po' così di sorpresa Per i nostri ospiti Un piccolo consiglio che vi posso dare È quello di aromatizzare ulteriormente La meringa fatta di sale Inserendo all'interno della preparazione Mentre come avete visto Stavamo montando gli albumi Ed aggiungendo il sale Inserendo che ne so La scorza di un agrume O delle erbette aromatiche In modo tale che il calore poi Trasferirà dal sale al pesce Gli aromi che abbiamo scelto E buon appetito Vi auguro quindi buon appetito Con Pam e Panorama Per questa ed altre ricette Visitate il sito